Quanti anni? Io ho 85 anni, era piccolo, perché esiste uno dei quadri nelle cantine, io ero piccolo quando ho visto questi quadri e allora penso secondo me che risalgono a quell'epoca perché stavano a giocare carte a 3,7 e da sotto il tavolo ci passavano il 3 di denaro ricordo se qualcuno di voi ha visto questi quadri, insomma quadri della visita della persona. Sì, 80 anni, lui era piccolo il centenario, quando li ho visti era piccolo.